Con Mascara parte invece Silvestre e De Lucia Ci metti il punto giustamente perché il tiro era molto potente Poi lontana Mozart, non di molto Lopez! E questo è un grandissimo gol di Maxi Lopez Ci sono gli applausi di tutti, anche dei supporter nivornesi E direi che una volta di più ha fatto male chi è stato a casa oggi Perché abbiamo visto delle esecuzioni di grandissimo livello Qui la rovesciata di Maxi Lopez Che impreziosisce sul piano personale la sua stagione Non ha gol in 14 partite Ma che numero dell'attaccante argentino Incredibile, bellissimo Ha fatto una mezza rovesciata Andare a cercare il palo opposto Strepitoso gol, fantastico Non se l'ha visto per tutta la partita I grandi campioni sono così Alla prima occasione fanno grandi gol